eccoci qua ragazzi benvenuti facciamo qualche ricettina qua a base di pesce allora andiamoci di tagliere bel coltello qua mettiamo dell'olio d'oliva a rosolare con dell'aglio cipolla e chiama alta vediamo una cipolla qua tagliamo a pezzi pezzettoni ecco qua ci mettiamo un po di peperoncino un po d'aglio ecco qua abbiamo delle gallinelle qui rimuoviamo le stesse ecco qua il pesce già puliti già conditi con del pepe olio d'oliva, sale spostiamo il pesce qua facciamo un bel brodetto ecco qua molto belli questi pezzi 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 ecco qua mettiamo altro pezzo ecco qua cinque gallinelle che nelle filetti facciamo rosolare per bene le verdure alla testa che viene ragazzi tagliare qua ti hai tagliare qua guardiamo ecco qua ecco qua la testa ok ecco qua ecco qua la testa Grazie. Grazie. Con le gallinelle. Ecco qui, due pomodori, un po' d'aglio, cipollotti. Grazie. Ora facciamo cuocere un po' il brodo. Ecco qua ragazzi, facciamo il brodo, spostiamo questi pesci dal calore. Con il brodo, lo faccio e così non lo possiamo uscire, non lo deve mandare per il mio e mei. Va bene, però è in gioco. Non lo faccio. 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 Mettiamo su una bella salsetta. adesso poi sono qua un pochino d'aglio ecco qua benvenuto Davide stiamo facendo piatto veloce veloce con delle bellissime gaminelle stiamo facendo un bel brodino, un brodetto tagliamo del pomodori diciamo che l'olio d'oliva ecco qui ci facciamo un bel bicchiere di vino ragazzi è mercoledì, però io sono in mezzo e ferie e qui posso fare un po', posso giochi chiedere un po' ecco qua ragazzi, ci pollotti va bene un pochino d'aglio facciamo lo trovare un attimino adesso qui ho fatto dei filetti pesce sì, c'è qualche spina dentro sicuramente ma non fa niente adesso dobbiamo aggiungere il pezzo e sale e iniziamo a tagliare i pomodori piccoli 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 ci facciamo un po' ci facciamo un po' Grazie a tutti. Vediamo i pezzi piccoli di pomodori. Ecco, io metto anche l'altro pomodoro qua. Ecco. 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 Ecco qua. Facciamo un corso che pian piano. Ecco, il mio brodo sta sonbollendo. Ecco qui. Aggiungo il pressemolo per dare dei sapori. Ecco qui un po' di pressemolo. E aspettiamo un pochino che il brodo bollisca. Il sughetto va meraviglia, con calma. Magari possiamo eliminare le spine centrali del filo. Magari. 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 Andeguacchi. A pezzettino A fare anche il coltello A pezzettino A rimuovere A filettare bene il pesce A pezzettino A pezzettino A pezzettino A pezzettino io sto un paio di filetti di pesce facciamo una bella scorpacciata due spaghetti molto belli questi pesci ecco qua facciamo andare ecco questa allora io aumento il fuoco anche la zuppa sta cuocendo bene mettiamo anche un altro pochettino d'acqua poco poco allora qui c'è il pesce pulito da una insparazzata qua qui c'è il pesce pulito ecco qua ragazzi adesso aggiungiamo un altro paio di pomodorini adesso logicamente c'è qualche spina nella mia carne ma non succede niente diamo una giratina qua il pesce sta facendo meraviglia, profumi bellissimi, bellissimi e ci ho messo anche un pesce così a giro bene? grazie ora, così Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. ecco qua. a tutti. e a tutti. 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 sta assorbendo. a tutti. 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 qui. a tutti. 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 qui. a tutti. a tutti. a tutti.